probabilmente si aspettavano di trovare chissà quale tesoro nascosto i ladri che nottetempo si sono introdotti all'interno del palazzo comunale di Fano forzando una porta che dà accesso da via Nolfi di fronte all'edicola porte spaccate, cassetti rovesciati, scrivanie prese a calci, uno scenario di desolante devastazione, quello che si è presentato agli occhi del capo di gabinetto Stefano Celani, primo spettatore involontario della scena hanno fatto visita alla nagrefe sfondando a pedate la porta e messo a suo quadro gli uffici forse nel tentativo di araffare qualche carta d'identità ma quelle sono custodite in armadi blindati poi si sono diretti all'ufficio protocollo e anche lì nulla che li potesse interessare se non alcune pratiche rovesciate per terra hanno tentato anche di forzare il banco matinterno ma visto che anche questo tentativo di bottino ha dato esiti negativi sono saliti al primo piano è forzato le porte della ragioneria e dell'ufficio stipendi il nome si sa può evocare soldi ma naturalmente anche qui fumata nera e allora si sono diretti alle macchinette automatiche dove hanno razziato pochi spiccioli e qualche merendina. È stata l'amara sorpresa di questa mattina la stupidità della gente non ha mai limite e sono entrati nella notte forse approfittando anche adesso stiamo facendo dei lavori con le impalcature quindi hanno forzato una porta laterale ma nei fatti non hanno non sono stati gratificati perché non hanno portato via nulla se non fatto alcuni danni. Abbiamo prontamente denunciato la cosa fortunatamente a parte qualche danno materiale ma per il resto di valori economici non hanno portato via nulla anche perché in comune risorse e ricchezze da portare via non non ce ne sono quindi non vale neanche la pena fare queste queste cose comunque ecco la situazione è questa adesso risistemeremo queste piccole forzature la porta però ecco danni di piccola entità quello che dispiace insomma si va a ledere un bene comune di tutti. Al momento si ignora se gli autori delle frazioni siano professionisti o una banda improvvisata le indagini sull'episodio sono condotte dagli agenti della polizia di stato avvertiti questa mattina presto dallo stesso Celani